Mister, la regina vince a Pescara, un commento sulla gara? Ma è stata una partita ben giocata dalla mia squadra, noi siamo scesi in campo con l'obiettivo di vincere la partita, quindi abbiamo sempre avuto il dominio del gioco, è quello che volevamo, è quello che questa squadra può fare, l'abbiamo fatto molto bene, nel primo tempo magari siamo stati un po' compassati, un po' leziosi nella circolazione della palla, nel secondo tempo quando abbiamo velocizzato, abbiamo alzato il ritmo, la squadra ha fatto un bel calcio, un calcio quasi irresessibile, quindi credo che la vittoria sia meritata. Ok, grazie Mister.